Il mio cuore, siamo tornati con un'altra umile pratica del Vangelo a casa. Per questo usiamo come guida il libro Il Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Lantardecchi e dagli spiriti. Preghiamo, questa è la preghiera della presenza. E così, possa il tuo cuore non nutrire mai odio in nessun momento, possa il canto della maturità non soffocare mai il tuo bambino interiore, che il tuo sorriso è sempre vero, possano le perdite del tuo percorso essere sempre viste come lezioni di vita, possa la musica essere la tua compagna per i momenti segreti con te stesso, possano i tuoi momenti d'amore contenere la magia della tua anima eterna in ogni bacio, possano i tuoi occhi essere due soli che guardano la luce della vita in ogni alba, possa ogni giorno essere un nuovo inizio dove la tua anima danza nella luce, possa il tuo cuore celebrare in ogni amico e celebrare l'incanto dell'amicizia profonda che lega le anime buone, possa nei tuoi momenti di solitudini e di fatica il ricordo che tutto passa e cambia quando l'anima è grande e generosa, sia sempre presente nel tuo cuore, possa il tuo cuore librarsi felice sulle ali della spiritualità consciente, affinché tu possa percepire l'invisibile tenerezza che tocca il centro del tuo essere eterno, possa una dolce tregua accompagnarti sulla terra o nello spazio e ovunque il tuo bellissimo spirito porti la tua vita, possa il tuo cuore sentire la segreta presenza di tutto ciò che è impossibile esprimere a parole, possano i vostri pensieri, i vostri amori, il vostro vivere e il vostro passaggio nella vita essere sempre benedetti da quell'amore che ama senza nome, quell'amore che non si spiega, si sente, possa questo amore essere il tuo conforto segreto, viaggiando eternamente nel centro del tuo essere, possa questo amore trasformare i tuoi drammi in luce, i tuoi dolori in festa e i tuoi passi stanchi in passi gioiosi di danza rinnovatrice, possa tu non dimenticare mai in nessun momento la presenza che è in te e in tutti gli esseri. Amen. Questa preghiera è stata scritta da Wagner Borges. Oggi riflettiamo sulla seguente domanda. Qual è il dovere di un uomo buono? Vediamo. Istruzioni degli spiriti. Il dovere. Il dovere è l'obbligo morale di fronte a se stessi, prima di tutto e poi di fronte agli altri. Il dovere è la legge della vita, ne regola i più minuti particolari, come le azioni più alte. Ma qui non intendo parlare che del dovere morale, e non di quello che è imposto dalle professioni. Nell'ordine dei sentimenti, il dovere è difficilissimo ad adempieri, perché spesso è in antagonismo con le seduzioni dell'interesse e del cuore. Le sue vittorie non hanno testimoni, e le sue disfatte non trovano repressione. Il dovere intimo dell'uomo è abbandonato al suo libero arbitrio. Il pungolo della sua coscienza, questa guardiana della probità interiore, lo avverte e lo sostiene, ma sovente è impotente di fronte ai sofismi della passione. Il dovere del sentimento, osservato con fedeltà, inalza lo spirito umano, ma come si può precisare questo dovere? Dove comincia? Dove finisce? Il dovere comincia precisamente al momento in cui voi minacciate la felicità o la serenità del vostro prossimo. Finisce a quel limite che voi non vorreste vedere varcato per voi stessi. Dio ha creato gli uomini uguali di fronte al dolore. Piccoli o grandi, ignoranti o sapienti, tutti soffrono per le stesse cause, così che ognuno può giudicare con chiarezza il male che può fare. Lo stesso criterio non esiste per il bene, che è infinitamente più vario nelle sue espressioni. L'ugualianza di fronte al dolore è una delle sublime forme di prevegenza di Dio che vuole che i suoi figli, istruiti dalla comune esperienza, non commettano il male, scusandosi, con l'ignoranza dei suoi effetti. Il dovere è la pratica sintesi di tutte le speculazioni morali. È un eroismo dell'anima che affronta le angosce della lotta. Le angosce della lotta è in pari tempo severo e docile, pronto ad arrendersi di fronte a varie complicazioni, è inflessibile di fronte alle loro tentazioni. L'uomo che compie il suo dovere ama Dio più che le creature, e le creature più che se stesso. È di volta in volta giudici e schiavo della sua stessa causa. Il dovere è la gemma più bella della ragione, nasce da essa come il figlio nasce dalla madre. L'uomo deve amare il dovere, non perché preserva dai mali della vita, ai quali l'umanità non si può sottrare, ma perché apporta all'anima il vigore necessario al suo sviluppo. Il dovere si accresce ed irradia sotto una forma sempre più elevata in ciascuna delle tappe superiori dell'umanità. L'obbligo morale della creatura verso Dio non cessa mai. Essa deve riflettere le virtù dell'Eterno che non accetta, non accetta un abbozzo, un abbozzo imperfetto, perché vuole che la bellezza della sua opera risplenda di fronte a lui. Questo ha detto lo spirito di Lazzare a Parigi a 1863. Beh, ebbene, abbiamo finito la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica tutti i bacioni. Ciao!